Il mondo del lavoro in qualunque professione oggi è sfidato dalla crisi generata dalla pandemia. È sfidato nel profondo e in modo strutturale. Le imprese, le istituzioni, ma anche il mondo della scuola, della cultura, della sanità, della pubblica amministrazione, stanno attraversando uno snodo epocale. Cambiano i bisogni, cambiano le priorità. Questo determina nuovi assetti organizzativi e la necessità di una concezione nuova del lavoro. Sempre più urgente diventa il ricorso alla formazione continua, al lifelong learning. Imparare nuove metodologie, riqualificare le proprie competenze diventa determinante per tenere il passo del mondo che cambia. Seguiteci su LinkedIn. In Università Cattolica la formazione continua.